Passpartout Business Intelligence è un applicativo che analizza i dati gestiti dalla soluzione Mexal trasformandoli in informazioni di facile accesso. Con questo strumento è possibile quindi effettuare una valutazione tecnico-economica dell'andamento aziendale, identificarne i trend, prendere delle decisioni migliori e consapevoli, monitorare e pianificare la gestione strategica dell'azienda. Per un'analisi razionale ed efficace, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle tecniche di data warehousing, i dati da analizzare vengono caricati da Mexal in PBI tramite il modulo ETL e quindi organizzati in tanti data mart corrispondenti ai diversi fatti di interesse aziendale vendite, acquisti, ordini cliente, ordine fornitore, movimenti contabili, flussi di cassa, controllo di gestione, ecc. Grazie all'articolazione per fatti di interesse, l'utente può creare così, da semplici concetti gestionali, fatturato, articolo, mese, ecc., interrogazioni multidimensionali, prescindendo dalla struttura tecnica del database o dalla conoscenza del linguaggio SQL. L'analisi multidimensionale dei dati analizza uno o più fatti misuriabili al variare di uno o più dimensioni organizzati in uno o più livelli gerarchici. Selezionando quindi il fatto data mart che si desidera analizzare, ovvero il fenomeno, l'aspetto o l'attività occorsi all'interno dell'azienda e ritenuti di interesse per il processo decisionale, vendite, acquisti, ecc., ed avendo a disposizione le diverse misure, quantità a valori continui che tipicamente descrivono il fatto da un punto di vista numerico, importo della fattura, ecc., tramite il Report Manager, il tool grafico ad elevate interattività che consente la costruzione di report grafici, è possibile infatti combinare liberamente i seguenti operatori. Le dimensioni Entità di business Grandezze attraverso le quali si desidera indagare su un fatto quando, chi, dove, come di un fatto, ad esempio la data, l'articolo, il cliente, ecc., che contengono a loro volta i relativi attributi legati tra loro da una gerarchia. Ad esempio, per la dimensione data si hanno gli attributi mese, anno, ecc., e le metriche, i diversi modi di aggregazione delle misure, le entità che misurano il fatto da un punto di vista numerico, disponibili in ciascun datamart. Ad esempio, aggregando con la funzione Somma la misura Importo della fattura, si ha a disposizione la metrica Totale fatturato. Se ad esempio si volesse analizzare il datamart delle vendite, selezionando all'interno di un report le dimensioni Articolo, Data e Cliente, sarebbe possibile analizzare i dati provenienti da Mexal con un modello multidimensionale, ottenendo diversi risultati, modificando semplicemente il livello di dettaglio del report o calcolandone i subtotali. Si potrebbe individuare la quantità venduta di un determinato articolo ad uno specifico cliente in una data registrata. Ad esempio, il numero di bottiglie di vino rosso vendute a Mario Rossi il primo di marzo del 2010. Oppure stabilire la quantità venduta di un determinato articolo a tutti i clienti dell'azienda nella medesima data. Ad esempio, il numero di bottiglie di vino bianco vendute a tutti i clienti il primo di marzo del 2010. Ed ancora visualizzare il totale del venduto di un determinato articolo ad esempio il vino rosè di tutto il mese o di tutti i mesi dell'anno. L'interfaccia grafica innovativa di PBI consente la creazione in maniera assai intuitiva di analisi dinamiche e interattive. All'interno dei report è possibile inserire i diversi attributi in colonna e permettere così la visualizzazione del dato nella griglia risultato sotto forma di matrice pivot. E' possibile quindi modificare i report salvati eseguendo semplicemente l'operazione di drill down che comporta un aumento del livello di dettaglio dei dati ad esempio passando dall'attributo categoria statistica articolo all'attributo articolo e l'operazione di drill dap che invece permette di diminuire il livello di dettaglio dei dati. E tramite la funzione drill across è possibile poi confrontare il risultato di due report anche provenienti da datamart differenti.